Grazie a tutti. Grazie per la giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. Grazie per seguire i nostri lavori. Se abbiamo votato tutti, adesso non vorrei che con l'applauso qualcuno perde il voto. Finiamo. La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 403, astenuti 29, maggioranza 202, favori 366, contrari 37. La Camera approva. Siamo all'articolo 7. Ho bisogno del parere. Sono due emendamenti identici. Comincio io? No, stavano iniziando la regiglia. Non so perché. Grazie Presidente. Parere contrario sui due identici emendamenti. Bene. Adesso a lei, onore Federica. 7.1 Mananzana. 7.4 Sandra Savino. Mi rimetto all'aula. Grazie. Grazie, il Governo. Il Governo. Il Governo. Il Governo. Sì, conforme al parere del relatore di maggioranza. La ringrazio, onore Bressi. 7.1 Marzana e 7.4 Sandra Savino. Identici. Parere contrario del relatore di maggioranza e del Governo. Si rimetta all'aula. Relatore di minoranza. Se nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Grazie. Grazie. Tartaglione Fanucci Grazie. 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 Grazie.